Nel puzzle del Ragusa, una delle poche società attive sul mercato dilettantistico, manca solo la punta centrale. Il dubbio è tra Saranite e Panatteri. I due bomber se la giocano alla pari, alla fine uno dei due vestirà la casacca bianca-azzurra, probabilmente col numero 9. La dirigenza, ma soprattutto il direttore sportivo Franco Cassara, non ha ancora preso una decisione, anche se l'orientamento va verso Panatteri. L'ex attaccante di Catania, Modica Vellina, arriverà dal Palazzolo, insieme agli altri ex Ferla, Alderuccio, Arena e Bonarrigo, a caldeggiare il loro arrivo a Ragusa, proprio Peppe Anastasi, il tecnico che li ha allenati a Palazzolo e li conosce bene. Confermati intanto alcuni della vecchia guardia, come Buscema, Vindigni, Fontana, Pellegrino, Bonaffini, Milazzo e Gona. Da verificare anche col Catania la conferma del portiere Pandolfo. Intanto la società si appresta a formalizzare l'iscrizione al campionato di Serie D. A Vittoria, invece, nulla si muove. Il presidente Salvatore Barravecchia è rientrato in queste ore in città dopo essere stato fuori sede per motivi personali. Tra due giorni, come è noto, scade l'ultimato per l'ingresso di nuovi soci in società, ma al momento non si muove foglia. C'è solo caldo fosso e un silenzio assordante.